Il nostro pianeta è testimone di tanti eventi misteriosi. Alcuni si verificano all'improvviso, senza il minimo avvertimento, mentre altri ci offrono degli indizi prima di colpire senza pietà. Se fossimo in grado di riconoscerli tutti, magari potremmo prevedere ed evitare tante catastrofi. Per questo motivo, in questo video vi mostriamo 10 segnali nel cielo che preannunciano brutte notizie. Numero 10. Anelli di fumo. Per quanto ne sappiamo, nel nostro mondo non esistono le streghe. Ma se dovessero esistere, sarebbero senza dubbio più discrete di quelle che vediamo nei film. Questo però ci pone di fronte ad un problema. Se non possiamo incolpare le streghe per quello che sta succedendo in questo video, allora come dobbiamo interpretare questi anelli di fumo? Nel gennaio 2020, un utente di Twitter ha condiviso questo filmato che ritrae un anello di fumo nero che si alza lentamente nel cielo di Lahore, in Pakistan. Molte persone sono rimaste sbigottite, incapaci di spiegarsi quale fenomeno avesse dato vita all'anello di fumo. Alcune hanno incolpato streghe e alieni, altri invece hanno cercato spiegazioni più terrenne. L'emittente televisiva Sun, per esempio, sostiene che l'anello sia stato causato da un'esplosione in una fabbrica locale. Una cosa è certa, se vedete del fumo nel cielo, allontanatevi rapidamente. Numero 9 Lucci blu Il Galles non è in cima alla lista dei paesi misteriosi da visitare in cerca di brivido. Molte persone lo considerano una regione tranquilla, immersa nel verde, dove non succede mai niente di speciale. Se fate parte di questa maggioranza, forse questo video vi farà cambiare idea. In una sera, come tanti, nel cielo gallese sono comparse delle strane luci blu, che si susseguivano ritmicamente. I cittadini hanno pensato che fossero fuochi d'artificio, ma dopo un ultimo bagliore, le luci sono scomparse, in un silenzio innaturale, che escludeva lo spettacolo pirotecnico. Le luci erano troppo grandi e vivide per essere i fari di un'auto in lontananza. Quando numerosi cittadini in diverse parti del paese hanno denunciato la presenza delle luci, gli scienziati hanno provato a fornire una spiegazione plausibile, ma si sono ridotti a sole due possibilità, cattivo tempo e alieni. Numero 8 Luna doppia Esistono poche certezze per quanto riguarda il nostro pianeta. La Terra è una sfera, c'è più acqua che terra, e abbiamo solo una luna. Queste sono le grandi verità che impariamo sui banchi di scuola, ma questo video sembra implicare che almeno una sia una bugia. Concentriamoci sulla luna, il nostro unico satellite. O almeno così pensavamo. Quando i cittadini di Dubai hanno notato una seconda luna in cielo, si sono affrettati a filmarla coi cellulari per avere una prova tangibile dell'esistenza di un presunto secondo satellite. La comunità scientifica è stata scossa dalle immagini e si è subito gettata a capofitto in laboratorio per determinare la natura del secondo cerchio di luce. Le opzioni al momento sono due. O la seconda luna è sempre esistita, costantemente nascosta nell'ombra siderale, oppure è appena emersa nello spazio e potrebbe cambiare l'assetto del nostro pianeta. Finora gli esperti non sono riusciti a svelare il mistero. Molti sostengono l'impossibilità dell'esistenza di una seconda luna e incolpano qualche patito di Photoshop, che tuttavia, proprio come il satellite doppione, sembra essersi dileguato nel nulla. Nel dubbio, se doveste vedere due lune nel cielo, tenetevi pronti per la fine del mondo. Numero 7. Nuvola angelica. Esistono gli angeli? La risposta dipende dalla persona interpellata. Alcuni ci credono fermamente, altri pensano che siano solo magre consolazioni spirituali inventate dagli umani. Non sappiamo a quale scuola di pensiero appartenesse Danny Ferrero prima di questa esperienza, nel 2018, ma siamo sicuri che oggi la sua posizione sia molto più aperta al riguardo. Il 57enne stava guidando sulla Highway 105 nel Texas, quando ha notato una nuvola a forma di angelo nel cielo. I raggi del sole filtrevano tra le nuvole, delineando la sagoma di una figura angelica con tanto di aura celestiale. Anche se gli esperti sostengono che si sia trattato soltanto di un fenomeno luminoso, Danny lo ha interpretato come un segno di Dio e ha condiviso la foto sui social network. Molti hanno condiviso la sua opinione, mentre tanti altri hanno affermato che al posto suo avrebbero schiacciato l'acceleratore a manetta pur di lasciarsi alle spalle quel fenomeno mistico. Numero 6. Luce notturna. Se guardate verso il cielo a notte fonda, vedrete soltanto una vasta coperta nera, costellata di stelle, e magari qualche aereo notturno. Se avveste alzato gli occhi al cielo il 25 marzo 2021 nella regione nord-occidentale del Pacifico, invece, avreste visto qualcosa di più. Quella notte i cittadini hanno assistito ad un fenomeno straordinario che, purtroppo, è durato solo pochi minuti. Una scia di luce accesa che attraversava il cielo. Gli esperti, specialmente i meteorologi locali, sono rimasti senza parole. La conclusione più logica porterebbe ad ipotizzare il passaggio di un meteorite sfuggito al controllo serrato degli astronomi. Ma senza la conferma della comunità scientifica, la popolazione ha cominciato a diffondere storie fantasiose. La più interessante riguarda un test di volo da parte di una comunità aliena nascosta. Voi cosa ne pensate? Numero 5. Aureola solare. Chi ha detto che gli angeli sono gli unici a meritare l'aureola? Molti fenomeni misteriosi che si verificano sul nostro pianeta contraddicono le teorie convenzionali della comunità scientifica e quello che state per vedere non fa eccezione. A differenza di tanti altri, però, questo fenomeno ha una spiegazione plausibile. Questo filmato è stato girato a Città del Messico nel 2016 e mostra chiaramente il Sole circondato da un'aureola. Significa quindi che la nostra stella ha compiuto qualche gesto degno di lode da parte del Creatore? Secondo la comunità scientifica, assolutamente no. Sembra infatti che l'aureola sia solo il risultato di un'illusione ottica nata dall'interazione dei raggi solari con i cristalli di ghiaccio sospesi nell'atmosfera. Detto così, sembra quasi ovvio, ma dobbiamo ammettere che l'idea di un Sole dotato di aureola angelica non era poi così male. Numero 4. Pioggia di ragni. Se avete paura dei ragni, ritenetevi fortunati di dover gestire soltanto gli esserini che si nascondono nelle nicchie delle vostre case. Se vi tenete a debita distanza dalle loro ragnatele, non avrete problemi. In fondo non è mica come se i ragni piovessero dal cielo. In Brasile, invece, la situazione è molto diversa. Nel 2019, una zona rurale del paese ha fatto scalpore quando un aumento inaspettato delle temperature ha causato un fenomeno ancora più strano nel regno animale. Su tutta la zona si è scatenata infatti una pioggia di ranni morti. Anche se per noi sarebbe uno spettacolo apocalittico, in alcune zone del mondo non è un evento così raro. In alcuni paesi tropicali, infatti, la stagione calda è accompagnata spesso da una pioggia di ragni. Sempre in Brasile, già nel 2013, i cittadini avevano notato un cielo ricoperto di puntini neri. Pochi secondi dopo, erano stati investiti da migliaia di ragni che piovevano a catinelle. Insomma, ora sappiamo che cosa sogneremo stanotte. Numero 3. Buco nel cielo. Se vedessimo un buco nel cielo, probabilmente penseremmo che il confine tra la nostra realtà e l'universo dei nostri supereroi Marvel preferiti sia finalmente andato distrutto. Sicuramente è quello che hanno pensato anche gli abitanti degli Emirati Arabi Uniti quando nel 2019 hanno visto questo strano mulinello vacante nel cielo sopra le loro teste. Sembrava un portale verso un altro universo, ma per fortuna nessun mostro assetato di sangue si è presentato all'ingresso. Per stavolta ci siamo salvati, ma gli scienziati sono corsi a studiare il fenomeno per capire cosa lo avesse causato. Il video è stato girato da un astronomo e meteorologo che ha ammesso in prima persona di non aver mai visto niente di simile in vita sua. In seguito alla sua candida ammissione, molte persone hanno cominciato ad ipotizzare le teorie più elaborate, da un tentativo di contatto alieno ad uno dei famosi bug nella vita reale di cui sentiamo tanto parlare. Numero 2. Nuvola cascante. Rimaniamo negli Emirati Arabi Uniti per un altro fenomeno che ha generato reazioni contrastanti tra la popolazione. Per alcuni è stato un momento meraviglioso e indimenticabile, mentre per altri la fonte di numerosi incubi nei mesi a venire. Il filmato ritrae una nuvola che precipita nel cielo. La massa gassosa atterra su una staccionata e si sgretola leggermente, ma mantiene la sua forma tondeggiante. Assistere dal vivo ad una scena come questa convincerebbe chiunque della fine del mondo imminente o di un cambiamento radicale nelle leggi della natura. Prima di questo momento non si era mai sentito parlare di nuvole cascanti. E ancora oggi i meteorologi sostengono che in condizioni normali le nuvole non possono precipitare a terra in questo modo. La precisazione in condizioni normali è proprio quello che non volevamo sentire. Numero 1. Portale. Immaginate di vedere un portale che si apre nel cielo sopra di voi. Probabilmente pensereste alla fine del mondo imminente, ma dato che i cittadini di Vittoria, in Australia, ne hanno visto uno nel 2014 e sono sopravvissuti, dobbiamo dare per scontato che esista un'altra spiegazione. Era un pomeriggio soleggiato di novembre, quando la popolazione si è ritrovata a fissare una sorta di buco nel cielo. Gli scienziati sono scesi subito in campo per tranquillizzare i cittadini, catalogando il portale misterioso come un fall streak hole, ovvero un foro nelle nuvole. È un fenomeno che coinvolge gli altocumuli e i cirrocumuli e si verifica quando una parte delle gocce di vapore acqueo nelle nuvole ghiaccia trasformandosi in cristalli che precipitano in basso, fuoriuscendo dalla massa nuvolosa. Non è un evento pericoloso, ma è molto raro e per questo viene spesso scambiato per un fenomeno paranormale. Voi cosa fareste se vedeste un buco nel cielo? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime liste pazzesche.